In tanti hanno preso parte sabato scorso alla cerimonia di premiazione del premio letterario Città di Capannori 2017, svoltasi nella Sala Pardi del Polo Culturale Artemisia. I nomi dei vincitori sono stati resi noti dalla presidente della giuria, la scrittrice Margherita Loi, che ha illustrato i criteri che hanno guidato la giuria nella scelta dei vincitori. Giuria composta dall'editore Marco Del Bucchia e dagli scrittori Luciano Luciani e Marco Pedonesi. Cinque premi assegnati. Il primo premio della sezione saggio è stato assegnato a Paolo Maria Bozzone di Ancona per il saggio Attendibilità. Il premio per la sezione racconto è andato invece a Giuseppe Vetromile di Madonna dell'Arco per il racconto Giuseppe Mandò Riepilogante. Il primo premio della sezione poesia è stato aggiudicato a Ivan Fedeli di Ornago per la poesia Agosto Metropolitano. Il premio speciale Luciana Baroni è stato invece assegnato ad Alberto Vannucci di Lucca per la poesia La Nonna. Infine, il premio speciale Giovani è andato a Giuseppe Lancia di Bologna per la poesia Ai fianchi e sugli occhi. Gli attori della compagnia Teatro Giovani, Agnese Manzini e Francesco Nutini hanno letto i testi vincitori del premio.